Non dire padre se non ti comporti da figlio, non dire nostro se vivi isolato nel tuo egoismo, non dire che sei nei cieli se pensi soltanto alle cose terrene. A riportare questa frase è una suora. Il fatto curioso è che si tratta di un post di Facebook, il social network più in voga tra i giovani. Suora Enrichetta Mattarelli ha 74 anni e a Lugagnano è famosissima per aver cresciuto diverse generazioni di ragazzi, quelli che le suore dell'istituto figlie di Maria Ausiliatrice non vogliono abbandonare e dunque hanno deciso di adeguarsi ai tempi che corrono. È una grossa opportunità, oggi come oggi è una grossa opportunità perché diventa una piazza molto grande quella del social network, per cui è una possibilità di lanciare messaggi dal punto di vista dell'evangelizzazione, dal punto di vista dell'educazione e soprattutto così di avere uno sguardo di futuro e di speranza anche per il domani nonostante la realtà che a volte ci troviamo a vivere in senso negativo. Il riscontro che avete trovato attraverso Facebook? Suora Enrichetta soprattutto che lavora su questo ce l'ha un bel riscontro e direi che si allarga sempre di più perché quasi ogni giorno chiedono l'amicizia in molte persone che l'hanno conosciuta, giovani genitori, ragazzi eccetera. Per cui direi che è una, ripeto, è una bella opportunità che non bisogna lasciar cadere. L'istituto religioso fondato nel 1895 nel Lugagnanese è molto attivo. Oltre ad ospitare una casa di riposo per suore anziane prevede tre sezioni di scuola materna, un centro educativo, l'oratorio festivo con i genitori e da generazioni è uno dei punti di riferimento del paese.